Abbiamo voluto ricordare questi 25 anni dalla scomparsa del Comandante de Grazia, non solo oggi con il varo dell'unità a lui dedicata, ma anche con altre iniziative. È il primo libro, Navi mute, dedicata proprio alla storia, al sacrificio, all'uomo, che ci ha lasciato una grande eredità. Attraverso le pagine di quest'opera, la prima di una collana editoriale intitolata Storia di Mare, abbiamo voluto raccontare soprattutto alle giovani generazioni e ai tanti colleghi che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, la sua passione per il lavoro, la sua passione per il mare, la sua umanità, affinché possa trasmettere questa eredità di valori che rappresenta un patrimonio importante, inestimabile per tutti gli uomini e donne della Guardia Costiera.